Sono proprio un tipo favoloso, non trovate anche voi amici? Supero! Prima cercherò di accedere al segretissimo satellite spia militare che si trova in un'orbita già sincrono sulla zona medio-occidentale. E poi identificherò la limusina attraverso la targa personalizzata Signor Bigga e noterò la sua posizione approssimativa. Geniale! E poi riposiziono la parabola trasmettitrice sul telefurgore a 17,3 gradi est. Colpisco Westar 4 sull'Atlantico, rimbalzo il segnale qui giù alla Zorra poi sul commo stat 6, l'oriento là verso stat commo 3, numero trasmettitore 137 e poi giù sulla parabola sul retro della limusina del signor Bigga! È quasi troppo facile. Commissario Revie, DST, vorrei parlarvi ma non qui. Perché? Dobbiamo solo farvi qualche gentile domanda. Dopotutto ho trovato questa pistola non autorizzata nella tua giacca. Ciò significa che potrei sbattervi in prigione per 20 anni. Mi sono spiegato bene? Eccellente! È stato bellissimo conoscervi. Possiamo andare ora? Ci vorrà soltanto un momento. Benvenuti a Pari! Oh cazzo! Che sia morte il giovedì o il venerdì non cambia niente per loro. Ma per me cambia tutto! Perché è venuto da me prima di ucciderla? Perché così lei mi diceva come dovevo fare. Lei era il più adatto a dirmelo, infatti ho seguito le sue istruzioni. Le mie istruzioni? Ah sì, le ho seguite tutte. Il coltello sul tavolo, la zuppiera, la scena di gelosia, non ho dimenticato niente, ho fatto tutto. Può essere fiero di me? Fiero di lei? Ma questo è un assassino! Ah no! No, è stato un incidente. Sì, io che credevo di essere favoloso! No! Grazie a tutti.